Alluvione e morti in Sicilia. A Saponara, in provincia di Messina, la pioggia provoca disastri. Tra le vittime anche un bambino. Monti dà fiducia all'Europa. Aperto anche il fronte dell'integrazione. Sentiremo casini e fini. Egitto ancora in piazza. Non si fidano del regime militare. Chiedono elezioni e democrazia. Mercato della casa. Difficoltà per trovare o comprare alloggi. Sarà più facile con un apposito salone. Buonasera gentili telespedatori. Benvenuti al nostro telegiornale. Partiamo subito con le notizie in primo piano. Disastro in Sicilia, Saponara. Infatti in provincia di Messina le pioggia hanno provocato frane e smottamenti. Purtroppo sono state sommerse le case e ci sono state anche delle vittime. Tutti i dettagli nel primo servizio di giornata. Frane e fango. E' ciò che è capitato in provincia di Messina. Una tragedia dalla quale non si sono salvate le cose. E purtroppo neppure le persone. Il bilancio per ora è di tre morti, tra i quali un bambino di 10 anni. Il centro più colpito è Saponara, a 25 km dal capoluogo. Le altre due vittime accertate sono padre e figlio, rispettivamente di 50 e 25 anni. All'appello mancava anche una ragazza di 24 anni, poi tratta in salvo. Attualmente è in stato di shock ed è ricoverata all'ospedale di Messina. Sebbene siano palesi nel territorio colpito le situazioni di degrado e incurie nella prevenzione, le cause del disastro, in attesa di rilievi più approfonditi, vanno attribuite alle forti piogge, quasi 400 mm, cadute nelle scorse ore. Questa è la diagnosi degli amministratori locali. Le priorità al momento sono altre. Larghi tratti di terreno sono crollati a causa delle infiltrazioni dell'acqua, mettendo in azione il moto franoso che ha invaso le strade di Saponara. Attualmente sono sul posto gli uomini della protezione civile e dell'esercito. I militari sono giunti da Palermo, in più tutti i volontari accorsi per portare aiuto. Anche se le condizioni meteo sono migliorate, le operazioni sono ostacolate dal muro di fango, poco scalfibile, anche utilizzando le ruspe. Ma il maltempo ha colpito, oltre alla provincia messinese, altre zone. Smottamenti e allagamenti si segnalano adesso nel Catanzarese e in altre zone della Calabria. Passiamo al prossimo servizio. La politica italiana è sottoposta a forti pressioni, non solo i mercati ma anche i partner europei. Infatti incalzano il Premier Mario Monti. Intanto scoppia anche la polemica Lega Quirinale sulla cittadinanza ai bimbi, figli degli stranieri. Tutti i dettagli ovviamente nel prossimo servizio. Il Presidente del Consiglio Mario Monti ha utilizzato tutte le sue relazioni e conoscenze per riproporre il ruolo dell'Italia a Bruxelles. Barroso ha definito immensa la sfida italiana. Il Premier ha dichiarato di voler rispettare i tempi del pareggio di bilancio entro il 2013, dicendosi fiducioso e che l'Italia ce la farà. Su questo il leader dell'Udc, Pier Ferdinando Casini, assicura grande impegno. Noi siamo impegnati oggi a rimuovere i macigni perché se noi concorriamo, come altri, a mettere sul cammino di Monti sempre macigni nuovi o nuove sfide, anche quelle che non sono priorità di governo, prima o poi il governo va a sbattere. Noi facciamo esattamente l'opposto, cioè siamo come quegli sminatori. C'è un altro fronte aperto dal Presidente Napolitano ed è quello del diritto di cittadinanza per tutti i nati in Italia, anche se figli di stranieri. La sponda utile in polemica con le chiusure della Lega Nord viene dal Presidente della Camera, Gianfranco Fini. Tutti sanno che è nella cultura politica della sinistra italiana, certamente c'era una notevole sensibilità del mondo cattolico. Fece rumore quando da destra cominciai a ricordare che se la patria è la terra dei padri, perché l'etimo del termine è terra dei padri, non per questo bisognava tenere gli occhi chiusi di fronte a tanti, tanti ragazzi che sentivano l'Italia come la loro patria, anche se i loro genitori erano nati altrove. Passiamo a trattare la politica estera e trasferiamoci in Egitto, dove la gente è scesa in piazza. Ancora una volta i cittadini non si fidano della giunta militare che aveva promesso delle elezioni presidenziali nel giugno del 2012. Oggi ci sono stati purtroppo quattro morti negli scontri. Vediamo. Fino a ieri la giunta egiziana, tutta composta da militari, aveva utilizzato la foglia di fico di un governo composto da Yes Men, ma da oggi non può contare neppure su questo schermo. I generali egiziani, tutti redduci dal regime Mubarak, hanno accertato le dimissioni dell'esecutivo. Di fronte alle proteste condotte dalla marea di persone e di tutte le tendenze religiosi o politiche presenti nella classe del paese, le truppe hanno risposto con la repressione. Per gli egiziani svanisce così il sogno di una rivoluzione indolore e indirizzata verso un assetto democratico. Le elezioni, previste per il fine settimana, sono state confermate. Si tratta di una consultazione legislativa. Quel che conta sarebbero le presidenziali. Questo versante, il potere indivisa, ha promesso che si andrà al voto nel mese di giugno 2012. I manifestanti chiedono un governo i cui componenti prevalgano sulla società civile. Un'altra richiesta è che i militari rientrino nelle caserme. I danni provocati dalla loro presenza in piazza Tirir si misurano con i 40 morti provocati, oltre a centinaia di feriti. Continuano pertanto al Cairo e in altri centri egiziani le manifestazioni di massa per evitare che i generali restino alla guida del paese a tempo indeterminato. Evidente il fatto che le promesse, mai seguite dai fatti di democrazia e libertà, non bastano più. C'è chi ha registrato anche qualche defezione fra i gradi intermedi dell'esercito. Testimoni parlano di insobordinazione da parte dei soldati ai quali era stato ordinato di sparare sulla folla. Compravendita e affitto delle case sembra incredibile ma il mercato delle case è proprio statico e le difficoltà economiche mettono proprio a repentaglio anche una certezza come quella del mattone. Vediamo. Comprare o affittare una casa è sempre più difficile, sia per la staticità e l'incertezza del mercato che per la difficoltà della maggior parte delle famiglie di accesso al credito. Nasce così il MECA, il primo salone della casa a Milano. Questa iniziativa è il risultato di un'alleanza tra diversi ruoli professionali che intervengono nel momento dell'acquisto della casa. Ci sono i notai che come tutti sanno sono preposti a dare sicurezza, ci sono i mediatori che sono i soggetti che accompagnano l'acquirente e il venditore nel fare le loro scelte di natura commerciale soprattutto e ci sono i costruttori che sono coloro che mettono sul mercato gli oggetti che costituiscono il bene scambiato su questo mercato. Il tutto coordinato dall'osservatorio del mercato immobiliare della Camera di Commercio di Milano che ci sembrava proprio l'ente più adatto per svolgere questo ruolo di coordinamento. L'incertezza del mercato è data anche dalle future e possibili nuove manovre di governo. La situazione è di crisi quindi chiaramente non è che siamo in una situazione brillante questo per quanto riguarda tutte le categorie e chiaramente anche la casa e noi abbiamo voluto il MECA proprio per vedere di dare più fiducia ai cittadini anche nei riguardi sia dei noi mediatori sia della filiera immobiliare sotto tutti i punti di vista e da aiutarli a capire dove sta andando il mercato e che cosa può essere più interessante per i cittadini da acquistare o eventuali investitori. Il Salone della Casa di Milano ha come obiettivo quello di aiutare i milanesi a valutare le varie offerte. Secondo gli ultimi dati il mercato della Casa milanese è infatti uno dei più cari d'Italia. Dagli una varietà di offerte all'interno del quale uno possa scegliere per tipologia e per prezzo. In secondo luogo vengono presentati non solo interventi su Milano ma anche nella provincia di Milano che è diventata nel decennio scorso il luogo dove molte famiglie hanno eretto la loro residenza o sono trasferiti da Milano. Per quanto riguarda i prezzi di Milano abbiamo un valore medio nella città di circa 4.750 euro al metro quadro. Per quanto riguarda gli affitti, pur alti che siano, invece si assiste a una lieve diminuzione. La partecipazione delle donne alla vita politica e sociale naturalmente abbinata a quella delle opportunità sul lavoro. Un problema che non è ancora stato risolto. Il tema infatti è stato affrontato dall'osservatorio nazionale sulla salute della donna. Il servizio. L'Italia si colloca al 95esimo posto per ciò che concerne la partecipazione economica della donna. Dunque in forte difetto rispetto alla direttiva 54 della Commissione europea che sancisce agli stati membri di promuovere una parità di trattamento per entrambi i sessi. Nessun aiuto neanche dall'ambiente professionale. Le donne faticano il doppio soprattutto al sud per dimostrare le loro competenze. I dati sono stati presentati dall'osservatorio nazionale sulla salute della donna. Il progetto ha visto prima un'indagine dove sono stati condotti tre focus group al nord, al centro e al sud Italia ed è emerso che la carriera femminile è sempre in salita. La difficoltà di conciliare lavoro e famiglia è sempre più difficile. Difficoltà sono emerse anche nella gestione dei rapporti con il partner nel senso che alcune funzioni di tipo soprattutto casalingueo da noi c'è ancora un tipo di cultura da modificare. Ma soprattutto è emerso però che l'aspetto più interessante è un'attenzione alla salute che è inferiore a quella che vorrebbero perché il tempo a disposizione è limitato. Fin dalla sua costituzione la giunta milanese ha voluto dare un'indicazione forte introducendo nella sua composizione la parità fra i generi e sta proseguendo il suo impegno in tale ambito con diversi progetti. Noi ci stiamo impegnando nel promuovere la partecipazione delle donne non solo attraverso le nomine nelle nostre aziende partecipate che hanno visto una forte componente femminile nei consigli di amministrazione e nelle presidenze ma anche promuovendo politiche di conciliazione vita lavoro che consentono alle donne una maggiore partecipazione nei luoghi di lavoro. Aiutare l'integrazione è un tema che abbiamo già trattato nel servizio sulla politica e che torna nel dettaglio con quanto sta facendo in Lombardia Telefono Mondo. Vediamo. Il capo dello Stato Giorgio Napolitano chiede con forza al Parlamento di far riconoscere i bambini nati nel nostro paese come cittadini italiani. Ora più che mai quindi la situazione dell'integrazione è importante per il nostro paese. Iniziative come Telefono Mondo attivo da 20 anni aiutano l'integrazione dei migliai di immigrati presenti in Lombardia. Questo seminario nasce all'interno di un progetto realizzato dal ottobre 2010 fino a dicembre 2011 e porta un po' i risultati di questo progetto che si chiama Telefono Mondo Servizi Integrati per l'immigrazione che è un progetto e nei anni pian piano è diventato anche una presenza stabile di informazione e orientamento per i cittadini stranieri e per i cittadini italiani sui temi dell'immigrazione. Allora la particolarità di questo progetto è che il servizio viene fornito non solo in italiano ma anche in nove lingue straniere da mediatori culturali e plurilingue riguarda informazione sul permesso di soggiorno, ricongiungimento familiare, cittadinanza italiana, corsi di lingua e un progetto finanziato dalla regione Lombardia direzione famiglia, conciliazione, integrazione e solidarietà sociale. Quest'anno dall'idea progettuale nata nei primi anni 90 sono 17 anni di progettazione continuativa. Telefono Mondo, il servizio telefonico di informazione, orientamento e consulenza risponde a chi ne ha bisogno nella propria lingua d'origine. Il numero di Telefono Mondo è 800 513 340. Per quanto riguarda il prossimo servizio noi continuiamo a trattare di musica Dors e Michael Jackson, su di loro annunciati due ritorni. Per Jim Morrison un inedito dagli archivi della casa discografica Elettra, per il re del pop invece un doppio LP con i suoi maggiori successi. Vediamo. Non è dato a sapere ma potremmo rischiare un possibile accostamento e mettere in relazione gli ultimi riconoscimenti, prestigioso premio triestino alla carriera nel science plus fiction al grande regista Giorgio Romero specializzato in filmografia zombie e i recenti recuperi di due grandi musicisti da epoche diverse passati a miglior vita. Certo è, sotto i nomi di The Doors e Michael Jackson sono in arrivo delle novità discografiche. Andiamo con ordine. A breve uscirà She Smells So Nice all'interno di un cofanetto celebrativo di Jim Morrison e della sua mitica band chiamato con il rievocativo printing Early Woman. La rivista Rolling Stone si è assicurata all'esclusiva per dare un'anteprima di pochi secondi prima del lancio previsto per il 24 gennaio 2012. Il brano è un blues solamente per caso uscito dagli archivi della casa discografica Elettra. Molto distante dalla sciuttezza stilistica dei Doors c'è il nuovo repeshage che farà felici i fans vedovi di Gekko. Il secondo album Postum si tratta di un doppio LP con 40 canzoni che portarono il furè del pop al successo ed è intitolato Immortal. Originalissimo, non c'è che dire. Di sicuro non mancherà thriller nell'interpretare il quale forse Michael Jackson deve qualcosa proprio alla maestro Romero. Per quanto riguarda questa edizione del telegiornale è tutto. Grazie e arrivederci.